Siamo con Giuseppe Bottalico presso la palestra Virgin Balduina di Roma. Giuseppe svolge un lavoro oggi molto di tendenza, lo svolge sia presso questa palestra che come libero professionista, ovvero fa il personal trainer. Chi è il personal trainer? Allora, è un professionista del benessere che si occupa del corpo e della mente. È un lavoro che richiede dedizione, impegno, quindi competenze, ma anche un corretto stile di vita a partire diciamo dal tuo? Dalle ore di sonno, da una sana alimentazione e da dedizione all'allenamento. Che poi sono anche i consigli che dai alle persone che segui? Sì, cerco di essere io da esempio perché i loro obiettivi sono i miei risultati. Grazie. Grazie a voi.